Ciao a tutti, siamo Irene e Michele. E ora vi faremo vedere come si fa il gelato alla stracciatella fatto in casa. Gli ingredienti che ci serviranno sono 400 ml di latte 175 g di zucchero 250 ml di panna fresca 70 g di cioccolato un pizzico di zucchero vanigliato e un pizzico di sale. E' molto semplice, basta unire tutti gli ingredienti. 400 ml di latte la panna lo zucchero il pizzico di sale e il pizzico di zucchero vanigliato e a questo punto mescolare bene. Dopodiché versate il tutto nella macchina per fare il gelato. Passate ora a tagliare il cioccolato in piccoli pezzi. Il cioccolato andrà aggiunto alla fine. Ora fate partire il freddo e impostate il timer a 40-45 minuti. Il gelato è pronto. Ora basta. Ora basta. Aggiungere la cioccolata ne aggiungiamo solo una parte far mescolare un po'. Far mescolare un po'. Aggiungiamo il resto. Aggiungiamo il resto. Aggiungiamo il resto. Buono! 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 E se vi piace lasciateci un commento. Ciao! 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 Ciao!